Musica 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 Alla beh, per chi non conoscesse i granny sarebbe un gioco dove c'è questa sottospecie di vecchia che sembra, mia madre quando si svegliava la mattina, sempre con una mazza da baseball in mano, che odia tutto, detesta tutti e io direi di iniziare perché la musica, ce la aggiungiamo? Musica No, io voglio farlo senza musica, quindi non mi scassa tu cazzo, perché, non voglio farlo senza musica, non voglio farlo senza musica, e guarda, che la musica è inguitante E cosa sono io quando mi sveglio la mattina, raga, e adesso, allora, noi siamo qui, su questa casa, dove noi dobbiamo cercare di scappare, io non faccio prendere la stavecchia Che, oddio Oh cazzo, queste le, se sentite questi passi, questa è lei, e dobbiamo cercare di non far cadere niente, e di non farle sentire niente, e di nasconderci prima che lei ci veda, perché se no su cazzo, e che ci sfonda qua sotto, ci fa saltare in aree che... L'altro giorno io stavo giocando sotto, sotto il tavolo Allora, raga, io adesso non so se lei si è andata di sotto Oh cazzo, oh cazzo, no 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 no, eh, lasco di sotto, subito Oh mio dio, ma non voglio morire, per favore, per favore, non voglio morire, per favore E adesso, per favore Oh mio dio Io sto tremando Questo gioco, ragazzi, lo provo dal buio, è veramente brutto, brutto da provare Ok, ok, andate, affanculo Adesso, io la facecam me la metto qui, perché poi devo premere il tasto per abbassarmi Oddio, abbassati subito Ok, dai, via, subito, via, 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 via Io ragazzi, i cosi di sta casa li conosco a memoria, quindi noi adesso dobbiamo passare qui Noi dobbiamo passare qui, dobbiamo cercare delle chiavi per aprire una porta, la porta dell'entrata Senza far scoprire da quella stronza malata Dobbiamo prendere queste foto, dobbiamo completare una specie di puzzle Che rappresenta sta vecchia disgraziata Che cazzo è? Ma che cazzo è? Ok, penso che possiamo... Ok Si sta avvicinando? Si sta avvicinando? No, non si sta avvicinando Adesso io non so se possiamo... Andare di sopra, perché lei ci sta aspettando, ma io... Io siccome sono maschio, ci vado Porca tre, porca tre, subito qua dentro, subito qua dentro Il campanello disgraziato lo devo distruggere un giorno Non voglio più fare questo gioco, ma perché io qui volevo giocare a Minecraft, a Freddy Ah ragazzi, a proposito, ho una buona notizia su Freddy 2 Ho completato la notte 6 Adesso ci abbiamo le Custom Night Nel prossimo episodio portano le Custom Night E speriamo di non morire, perché veramente io odio le Custom Night E odio tutte le Custom Night di Fine Night Freddy Se con le mo... Porca put... Cambanello, bastardo Che sorrisi Vabbè che io faccio box, hai detto, ho due testi sinistri che te lo faccio ricordare a b... Porca put... No, no, no... Corri, 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 corri Ma stop, corri No, 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 corri, corri, bastardo, corri Corri No, dove c**** sta andando? Giro, giro, tondo, quando è bello il mondo vai via Eh, dove c***o vado? Ok vai qua sotto Subito qua sotto Poi scappa addirittura, hai messo la porta Ok Mi sa che sei andato eh Mi sa che sei andato Ah No 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 Corri via subito Subito Aiuto Ma fa Ma fa il culo Ah Corri Subito qua sotto Oh mio dio Ok vai subito sopra Subito sopra E fate nascondere adesso Subito Non voglio più farlo sto gioco Ragazzi questa è la prima e ultima volta che faccio sto gioco Non di bloccare Subito Vai via subito 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 Non suonare un bastardo campanello di merda Non suonare perché E ha suonato E ha suonato Lo sgabuzzino Non so che cosa è ma io lo chiamo sgabuzzino Ragazzi siamo qui da chiusi Siamo chiusi Oh che cazzo è sto cosa Che Code Code E che dobbiamo fa? Non lo so ma Ah ho capito Si Stardo campanello Ti prego non mi direi che mi ha visto Ti prego non mi direi che mi ha visto Ma cazzo ridi ogni minuto Ma perché ridi? Ma te ne vaffanculo Io sto cosa Scode Ma che vuol dire? Ah aspetta Ah si 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 devo metterlo nel lucchietto Quindi Un'altra foto Cosa facciamo? Porta o foto? Porta Foto Porta O foto? Ma a me che me ne frega Io vado a fare la porta Ma non me ne f***o Cazzo Bellissimo Bastardo No 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 Corri 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 Vai corre subito Lascialo vai Corri 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 Bastardo Corri Corri Subito Corri Corri Vai via Via Non ti fermare mai Corri Non ti fermare mai Non ti fermare mai Dove c'è prosciutto No 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 Dove c'è prosciutto No Si ragazzi Perché c'è un prosciutto Perché non lo sapesse C'è un prosciutto Madonna No 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 Via 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 Allora ragazzi Qui ci sono Queste Cose Non so cosa si Mi sa che non ha sentito niente Quindi possiamo andare Con tutta tranquillità O no Non possiamo andare Con tutta tranquillità Porca Via via No 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 Questo è che il secondo giorno Che stiamo qui Allora io adesso Non ho capito una cosa Io In cinque giorni Che gioco A suo gioco Perché c'è scritto Five days Perché? Vabbè usciamo Perché Non possiamo uscire Secondo me Allora eh No 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 Stardo schifoso Chiudi di Ok ragazzi Al tre Noi Scattiamo eh Uno Due Tre Ok via via Corri 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 Le ho sto coso Le va Ok l'abbiamo L'abbiamo scampato eh Perché era proprio dietro di noi Lo sai che ti prego eh Lo sai che ti prego Quella mazza Non ti serve a nulla Quella mazza Tanei figli Su Ok ragazzi Seguiamola Vediamo dove va Ok non voglio più giocare Non gioco Vabbè ragazzi Noi ci rivediamo nel prossimo episodio Con finance Halfreddits L'ultimo Proprio vi giuro Questo sarà l'ultimo episodio Di finance halfreddits Dopo di questo Cioè Non lo so Vedate che sia sabato Vabbè ragazzi Noi ci rivediamo nel prossimo video Adesso io devo andare Perché è una cosa molto importante Di consigliare Noi ci rivediamo nel prossimo video Bella Ciao Vi saluto anche mia nonna Eh Quella non è Che non è molto più bella Di like Yep Noi ci rivediamo nel prossimo video Noi ci rivediamo nel prossimo video Noi ci rivediamo nel prossimo video